Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli? Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'oltrepop avese. Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici. E poi, pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria. Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3, vincitore del certificato di eccellenza TripAdvisor 2015. Benvenuti a Vox Populi, oggi siamo a Voghera e parliamo di Halloween. Infatti è arrivato il giorno della famosa festività anglosassone. Lei festeggerà? No. Come mai? Perché non mi piace? Perché questa è la festa americana che viene dall'estero e... No, no, non mi piace. Per quello non festeggio. Quindi è più tradizionalista, preferisce diciamo festeggiare... Esatto, festeggiare più Natale, magari Capodanno che vengono dall'ex Unione Sovietica per noi è importante Natale e Capodanno. E Halloween? Niente. Pensi che per molte chiese cristiane le origini di Halloween sono strettamente connesse alla magia, alla stregoneria, al satanismo, per cui esso porta all'influsso dell'occulto nella vita delle persone. Qualcuno dice che l'enfasi di Halloween è sulla paura, sulla morte, sugli spiriti e quindi i bambini potrebbero essere negativamente influenzati. È d'accordo oppure pensa che è esagerato? No, io penso che è un po' esagerato perché questo sembra, secondo me, una festa anche per i bambini per fare un po' di divertimento, secondo me. Una specie di carnevale? Esatto, più o meno, però non è come il carnevale, è un po' diverso. Perché è diverso? È perché il carnevale è più chiaro, più solare, più bello, secondo me. Allora, io personalmente no, perché ho anche un'età in cui poi non l'ho mai festeggiato. Credo che per i ragazzi possa essere una bella occasione se vissuta con divertimento, non con fanatismo. Quindi, al di là dei discorsi religiosi ai quali io credo, non penso sia offensiva se le famiglie, insomma, insegnano il divertimento e non l'eccesso, ecco. Quindi non è d'accordo né con coloro che dicono non è una festa italiana, quindi non si deve festeggiare? No, io non credo molto nei divieti, se non quelli appunto legali, quindi penso che i ragazzi si debbano divertire liberamente ma sapendo però quello che stanno facendo, quindi il fatto di poter scegliere di festeggiare qualcosa anche non della nostra tradizione, sapendo che fa parte di un'altra cultura. In teoria dovrei andare in discoteca con i miei amici a Salice, però è una cosa senza costumi, senza niente, quindi... Come mai non ti vesti, non ti travesti? Perché ormai queste cose non è che mi entusiasmino tantissimo, quindi passo. Il fatto che molti la critichino perché non è una festa tradizionale italiana ma arriva da un paese straniero, secondo te è giusto oppure no? Ma non lo so, ognuno la pensa come vuole. Io, c'è l'entra, mi piace. Qualcuno dice che è legata troppo alla morte, a questi temi così brutti, che possono influenzare negativamente sui bambini. Secondo te può succedere? No, perché secondo me ai bambini piace anche travestirsi, da fantasmi, cose spaventose, quindi no. Dipende anche come gli viene presentata la festa, magari anche in tono divertente loro si divertono. No, se un bambino fanno paura a queste cose, non si traveste, non fa niente e basta. Grazie a tutti.